Bella a tutti ragazzi qui, Arendieci Ma che cazzo? Vai che vado a ammazzare a queste Ucidi Rocco, Sifreni Sua madre negra 98 Toto Mi ha trollato sto pezzo di merda Hey, qui c'è un vecchio uomo che potrebbe salire Io ce l'avevo il numero di stonetti Questa è l'intelligenza dei veicoli Guarda, mezzo centimetro per passare E poi si corrono a 3000 Questa è un po' 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 Giugno Queste si che sono cose davvero dure, pigli la Semitex e gliela tira il tuo cuore. Sì, tu e me due, ragazzi. Guarda, è un problema, ma potete venire al studio? Abbiamo qualcosa che voglio vedere. Sì, ovviamente, ci saranno proprio. L'ho fatto! 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 Ciao. Inizio! Inizio! Grazie! 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 Si è vero che magari sono scutto per il negozio di film, eh? Il mio amore, sei un figlio sentimentale, con nulla attrazione artistica e nulla cosa interessante a dire. Io diria che sei overqualificato. Inizio, fermi e guardi un po' a... ...TO! Oh... Oh... ...Fuckin' A. Si senti bene, non? Si senti che ho finalmente fatto qualcosa con la mia vita. Inizio, ho fatto qualcosa. Un film. Un film. Benvenuti al negozio. Niente ma che credere, non si senti ancora più vero. Ha ha ha! Ok Michael, vieni! Vieni, vieni a mostrarvi alcuni russi. Credo che lo sbagliate, ma... ...it' davvero bello che lo conosci. Ehi, figlio. Solo volevo dire che, finalmente faccio qualcosa con la mia vita. Sto facendo un film. Un vero. Mi chiamami. Vabbè, ragazzi. Per questo video è tutto. Ripetete... ...la ballata di Rocco. ... 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